Sono state oltre 6.700 le richieste accolte per la concessione del reddito di cittadinanza da parte dell'Inps a beneficio di residenti nella provincia d'Imperia, un dato che pone il territorio imperiese in vetta alla classifica della Liguria dal punto di vista percentuale. La concessione dello strumento di sussidio infatti nell'imperiese è pari a oltre il 3% della popolazione mentre nelle altre tre province Liguri è di poco superiore al 2%. I dati forniti dall'Inps sono stati elaborati dalla CGL che ha voluto fare il punto sulla situazione dopo 5 mesi dall'approvazione del provvedimento relativo al reddito di cittadinanza. Il sussidio medio è di poco superiore ai 400 euro ma a seconda dei casi ci sono persone che non raggiungono tale cifra e altre che la superano abbondantemente. L'imperiese risulta in vetta alla classifica anche per quanto riguarda l'importo medio più elevato mentre al secondo posto dopo Genova per numero di concessioni, dato evidentemente connesso al numero di abitanti di ogni territorio. Sindaco Chiappori, i dati dell'osservatorio turistico danno segnali positivi, buoni per Diano Marina con un incremento percentuale. Dal suo punto di vista la situazione qual è? Tanto diciamo mai fermarsi ai dati. Bisogna vedere che cosa succede, analizzare tutti i giorni e un'analisi che ho visto, che ho fatto è che abbiamo riportato il mordefugi che era fatto di aprile, maggio, settembre e lo abbiamo portato nei mesi centrali. Non va bene. Abbiamo questo tre giorni, due giorni, cinque giorni, cioè va bene tutto, va, però è importante che i dati poi siano alti, ma è difficile gestire questo tipo di turismo. Quindi bisogna vedere un attimino, pensare bene, riflettere e come ho avuto modo di dire, credo che non sia il momento di tirare le somme. È ancora troppo presto, bisogna capirlo, io direi verso fine settembre. Fine settembre si può analizzare quest'oggi più di ieri a Diano Marina, perché avendo la tassa di soggiorno noi riusciamo a capire bene quali sono stati le persone che hanno frequentato a casa nostra. A proposito di alberghi, Diano è nota, e non solo Diano per carità, anche per le seconde case. Un valore aggiunto o un problema? Beh, hanno cominciato a gestirle. Sotto pressione della Federalberghi abbiamo cercato di evitare che ci fossero i furbetti del quartiere, soprattutto anche quelli che affittano, poi arrivi e non trovi neanche la casa, cioè non trovi neanche la porta. Io credo che possa essere un qualche cosa in più solo se gestito bene, quindi Airbnb si muovono, agenzie si muovono e chi viene naturalmente viene registrato come se fosse in un albergo. Potrebbe piuttosto che avere case vuote, perché i proprietari qualche volta vengono solo poco di queste case, quindi se le danno in gestione a questa agenzia potrebbe essere, non dico un valore aggiunto, ma un valore più. Tanto è così, quindi è meglio guardare che le cose siano fatte in regola. Tutto il resto, mi pare che Diana Marina offre ancora 56 strutture alberghiere, abbiamo tre campeggi, quattro, abbiamo agriturismi, abbiamo Airbnb come ho detto prima, io credo che abbiamo tutte le carte in regola per poter fare dell'ottimo turismo. Abbiamo un buon entroterra, un entroterra che si sposa bene con la fascia del mare, qualche sinergia comincia a intravedersi, lo abbiamo fatto anche con Aromatica, lo facciamo spingendo quelle manifestazioni che possono creare un pathos giusto per i turisti che arrivano. Ci vediamo a fine settembre, però siamo orgogliosi di questo più otto, poi andremo ad analizzarlo bene. Più otto è un numero, non vuol dire niente, e non mi fa neanche piacere pensare che ci siano dei meno due vicino a noi, ecco, io vorrei che fossero tutti più venti e noi più otto, va bene lo stesso. Venerdì scorso in Liguria, proprio nel momento culminante della stagione turistica, sono stati soppressi la bellezza di 23 treni. La spiegazione ufficiale di Trenitalia ha fatto riferimento a carenze di personale dovute a malattie e permessi parentali, ma i sindacati non ci stanno e ora minacciano addirittura di denunciare l'azienda se non ritirerà quanto dichiarato. Secondo CGL, Cisle, Will, UGL, Fast e Orsa, infatti, i problemi non possono essere riferiti al personale che viene impiegato anche con molte ore di straordinario. Inoltre, sempre secondo le organizzazioni sindacali, il personale viaggiante della Liguria sarebbe stato addirittura inviato a coprire dei turni in Piemonte, non potrebbe quindi essere aditato quale responsabile dei disservizi. Come se non bastasse, nel fine settimana un treno è rimasto bloccato per guasti al locomotore per quattro ore lungo la linea fra Livorno e Milano e il capotreno è stato aggredito da un turista esasperato. Insomma, una vera e proprio caos che ha portato la regione a minacciare i Trenitalia di rescindere il contratto di servizio se la situazione non verrà immediatamente risolta. Il primo settembre la ferrovia Genova-Casella compirà 90 anni, un traguardo importante per il trenino storico che da quasi un secolo porta genovesi e turisti alla scoperta di Trevalli, Bisagno, Polcevera e Scrivia attraversando luoghi e panorami suggestivi. Il primo settembre in programma una grande festa per celebrare questo anniversario tra musica, allegria e prodotti tipici. Una giornata storica a cui potranno partecipare grandi e piccini. I tre comuni di Casella, Santolcese e Serraricò allestiranno degli spazi per la promozione commerciale turistica dei propri territori e saranno presenti stand per l'assaggio alla vendita di prodotti gastronomici e la promozione delle attività commerciali. Sarà inoltre possibile conoscere il mondo delle mountain bike, delle e-bike, con dimostrazioni e prove per i più piccoli potranno anche fare il battesimo della sella con cavalli e poni. I festeggiamenti partiranno le 12.30 dalla stazione di Casella con la banda musicale di Cocoleto e i gruppi storici. Alle 13.30 al taglio della torta realizzata dai pasticceri di Liguria Gourmet. Signor Sindaco, una bella invasione di penne nere nel suo ufficio con un alpino camminatore fra l'altro. Eh sì che ha il coraggio e la voglia di andare incontro alla gente d'Italia passeggiando a piedi con uno zaino che non è quello piccolo che è adesso, ma mi diceva che è 30 kg. Quindi mantiene l'allenamento che gli alpini fanno nella loro attività quotidiana benemerita per aiutare sempre le nostre popolazioni. È una bella occasione. Mi diceva e vi dirà che passeggiando in questo modo si conosce meglio com'è bella la nostra Italia. E poi c'è da sottolineare l'accoglienza degli alpini che per fortuna che ci sono. Quando c'è un terremoto gli alpini arrivano. Quando c'è un'alluvione gli alpini arrivano. Mantengono uno spirito di corpo che non è soltanto nostalgico, ma è anche sempre e costante riferito all'aiuto da dare alle persone che soffrono. In questa occasione è anche un divertimento, cioè accolgono nelle diverse tappe che il nostro grande podista alpino di Padova fa, lo accolgono e quindi stanno insieme a lui e gli portano quindi il sorriso della nostra città. Anche un po' un messaggio di fratellanza. Sarebbe bello che contagiasse un po' tutti. Tanto più di questi tempi dove siamo invasi dai barbari che governano e in questo modo siamo vittime di subire messaggi sempre in negativo, sempre urlati, messaggi sempre di protesta, messaggi sempre di negatività. Ecco, un po' di messaggi di positività fanno bene a tutti. Elio Brusamento arriva invece da Padova e ha deciso di fare una camminata da Trieste, girare tutta l'Italia per ritornare poi fino a Udine. Insomma, un bel impegno. Come nasce questa idea intanto? Allora, questa idea nasce, come ha detto giustamente il sindaco, è nata per un senso di libertà. Sono partito il 25 aprile proprio perché è il giorno della libertà e arriverò in piazza a Udine che si chiamerà piazza della libertà proprio perché il popolo deve essere libero di muoversi e di andare dove vuole, dentro i nostri confini italiani ma anche all'estero. Però è nata più che altro per la ricerca dei borghi di confini italiani per capire la gente di confine, come viene svolta la loro vita tra un confine italiano o francese o tra il confine svizzera o italiano perché sono persone un po' particolari perché sono tra due fuochi diciamo, nel senso di colture. E pertanto ho voluto scoprire queste persone e le scopro ma manca il cammino e ma manca il fa tutto il giro dell'Italia. Più che altro la mia idea è quella di libertà di parlare e di conoscere. Questa è la cosa più bella che posso portare. San Bernardo da Chiaravalle. Nacque nel 1090 nel castello di Fontenne vicino a Digione nella Borgogna da Tessalino e da Aletta di Momba. A vent'anni orfano di madre in una notte di Natale sognò Gesù bambino e dopo lunga meditazione entrò nel monastero di Sito. Per fondare una nuova comunità cistercense scelse una località chiamata la Valle dell'assenzio che divenne Chiaravalle. Morì a Chiaravalle il 20 agosto 1153 e nel 1830 fu proclamato dottore della chiesa. Le sue reliquie sono state disperse durante la rivoluzione nel 1793 mentre il suo capo è custodito a Troye. È protettore della Liguria, di Teramo, di Gibilterra, degli apicoltori e dei fabbricanti di cera. E' arrivato il giorno chiave per quanto riguarda la crisi di governo. Alle 14.30 la conferenza dei capi gruppo, alle 15 la comunicazione del premier Giuseppe Conte al Senato. Il primo ministro ha due alternative, riconsegnare il mandato a Mattarella oppure attendere l'esito del voto sulla mozione di sfiducia. Svanite le possibilità di ricucire lo strappo con la Lega, il vice premier Luigi Di Maio continua a negare la possibilità di un governo con Renzi e accusa Salvini di aver combinato un disastro. Secondo i dati in possesso dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, saranno 11.000 dipendenti pubblici che andranno in pensione ad agosto grazie alla Quattacento. Il mese, infatti, è il primo utile per andare via dalla pubblica amministrazione attraverso il nuovo sistema di pensione anticipata, che tiene conto dell'età e dei contributi versati dai lavoratori. Grazie a questo meccanismo sono già state liquidate circa 9.000 pensioni non anticipate, a cui se ne aggiungerebbero quindi altre 2.000. Secondo le stime, per il 2019 si prevedono 250.000 uscite, mentre per i prossimi anni se ne prevedono mezzo milione. Siamo abituati a vederli nelle nostre case, ma non siamo consapevoli di quanto siano pericolose. Sono le zanzare, uno degli animali più piccoli in natura, ma il più pericoloso per l'uomo. Secondo i dati riportati dal sito della Fondazione di Bill Gates, questi piccoli vampiri uccidono ogni anno 725.000 persone, molte di più rispetto a serpenti, 50.000, e cani, 25.000. Il numero così alto di vittime è dovuto ai vari virus che gli insetti veicolano, tra cui malaria e virus del Nilo. Per questo motivo, il 20 agosto si celebra il War Mosquito Day, giornata istituita su iniziativa di fondazioni e ONG per sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema della malaria. Crescono del 2,5% in un anno e del 28% in dieci anni, e pesano circa un quinto di tutte le attività presenti in Italia nel comparto, circa 90.000, dando lavoro a circa 48.000 addetti su 168.000 in Italia. Si tratta di palestri e centri legati a terme, manicure, erboristerie, istituti di bellezza e profumerie. Sono oltre 15.000 le attività tra sedi di impresa, sedi secondarie e unità locali attive nel settore del benessere fitness in Lombardia. La rilevanza della Lombardia del settore si deve soprattutto a Milano, che è seconda in Italia dopo Roma per numero di imprese, ma prima per addetti. Il Brescia presenta il nuovo acquisto Mario Balotelli. Mi sono sentito quando è stato il mio compleanno, mi ha fatto gli auguri. Ho scelto Brescia perché dal momento che c'era Brescia sinceramente non ho pensato ad altro. Mi può dare tutto più delle altre squadre. La mia città può darmi tutto, come io posso dare molto di più a Brescia che altre. Nel tardo pomeriggio è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti che hanno confermato una polmonite per la quale è stata prescritta terapia specifica. L'allenatore ha autorizzato il club a comunicare il proprio stato di salute. A questo punto la presenza di Sarri è a rischio per la prima gara di campionato sabato alle 18 contro il Parma. L'Argentina si prepara per due sfide importanti. Il 6 settembre si terra la partita contro il Cile e il 10 settembre quella contro il Messico. Intanto il commissario tecnico dell'Albi Celeste Lionel Scaloni ha diramato la lista dei 27 convocati, tra i quali figurano 5 calciatori del nostro campionato. Primo nome che spicca è quello di Paolo Di Bala, attaccante della Juventus in bilico tra cessione e conferma. A seguire troviamo Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, giochi in Correa della Lazio, Rodrigo De Paul dell'Udinese e Germán Pezzella della Fiorentina. Non è stato convocato invece il capitano Lionel Messi, squalificato per tre mesi dalla Commebol per la condotta in Coppa America. Joan Zarco non sarà il pilota KTM per la prossima stagione in MotoGP e molti vedevano in Dani Pedrosa il sostituto perfetto. A smontare però questa ipotesi lo stesso pilota spagnolo. Sono il collaudatore della KTM e credo che questo sarà il mio ruolo anche in futuro, ha detto al quotidiano spagnolo AS. L'ex pilota della Honda ha poi spiegato il motivo del suo rifiuto. Oggi sono molto più rilassato rispetto al passato e non ho voglia di affrontare ancora la pressione delle gare. Mi concentro sull'allenamento e non penso alle vittorie o ai trofei. Questo per ora è il mio piano.